Ben ritrovati. Faccio un passo in avanti e faccio qualche riflessione su un altro valore faticoso da vivere che è il valore della umiltà. Umiltà non significa stupidità. Umiltà invece e la persona è umile quando ha coscienza sicuramente delle sue capacità, delle sue possibilità, ma anche dei suoi limiti. E la persona umile è la persona che proprio partendo dai suoi limiti, dalla sua consapevolezza di chi è veramente, sa mantenere il suo posto, non deborda inutilmente. Dicevo, è uno dei valori più impegnativi da vivere perché tutti ci sentiamo umili e vorremmo che gli altri fossero altrettanto umili nei nostri confronti. In realtà siamo poco umili in tante situazioni perché questo posto che è il nostro ci infastidisce tenerlo. Noi vorremmo sempre andare avanti, essere al primo posto, essere in prima fila. Anche questo è un motivo di grande riflessione per ciascuno di noi, per le nostre famiglie. Quanto siamo persone capaci di vivere questa consapevolezza e di essere umili nel nostro rapporto con chi ci sta accanto e nel nostro rapporto con l'ambiente che ci circonda. Buona settimana.